Scegliere gli alimenti in modo consapevole, nell'ottica di una corretta e sana alimentazione. Questo è l'obiettivo del seminario tenutosi venerdì pomeriggio all'Hotel Poseidon di Torre del Greco, il primo di un ciclo di appuntamenti promosso dalla Fondazione di Ruocco Francesco, con l'intento di promuovere una cultura che ponga al centro la persona e il suo benessere. La Fondazione di Ruocco Francesco è nata in seno all'azienda RDR Spa, fondata appunto da mio padre Francesco Di Ruocco. Inizialmente è nata appunto per migliorare il benessere dei dipendenti del gruppo aziendale, ma essa si propone appunto di partire dal microcosmo aziendale per poi agire sull'intero territorio, promuovendo una cultura che ponga al centro la persona e il suo benessere fisico e spirituale. L'idea di questo ciclo di seminari sulla corretta alimentazione parte appunto dalla voglia di diffondere una cultura della sana alimentazione. Infatti spesso si tende ad associare il concetto di corretta alimentazione a quello di dieta, quando in realtà appunto il mangiare bene dovrebbe rientrare in uno stile di vita sano che appunto ci aiuti a vivere meglio. Noi intendiamo arrivare al territorio attraverso una serie di attività che prima di tutto coinvolgano le scuole, perché così come abbiamo già più volte espresso, la nostra idea è quella di una piccola goccia che vuole arrivare fragurosa e raggiungere quanto più possibile in maniera capillare tutto il territorio. Il progetto potremmo dire principe è proprio quello rivolto alle scuole, in cui cercheremo di portare, o meglio stiamo lanciando il nostro progetto Un Sorso d'Acqua, che avrà il compito di raccontare tutto quello che accade o tutto quello che c'è dietro all'apertura della fontana. Non solo in quanto l'acqua è uno dei temi importanti presenti nell'agenda ONU del 2030, ma anche perché è uno dei temi che sarà oggetto, ahimè, più di quanto di guerre che già conosciamo. Quindi la sensibilizzazione della risorsa acqua, Tugur, ma anche quella di una sensibilizzazione relativa alla sostenibilità ambientale in senso ampio. Vogliamo far partecipare innanzitutto tutta la popolazione alla conoscenza della corretta alimentazione in una maniera differente di quella che avviene giornalmente, cioè digitando semplicemente una ricerca in internet, quindi facendo in modo che le conoscenze abbiano un fondamento scientifico. Il nostro obiettivo è proprio quello di raggiungere quante più persone possibili e in particolare di aiutare i genitori nella scelta consapevole degli alimenti perché una delle grandi piaghe della nostra società è l'obesità infantile. È proprio il nostro fine quello di improntare un'educazione alimentare, magari incentivando proprio progettualità anche in ambito scolastico.